Il documento della premessa di un effettivo riconoscimento della cittadinanza italiana da parte della legislazione nazionale. Ed ora la pagina sindacale. Secondo la CISL, anche in Emilia-Romagna cresce il lavoro precario. Intanto i sindacati annunciano la protesta finalizzata allo sblocco degli ammortizzatori sociali. Ce ne parla Giorgio Maria Leone. In nove mesi sono diminuite delle 10% in Emilia-Romagna le assunzioni a tempo indeterminato. in favore di quelli a termine e del lavoro atipico. Chi paga di più la crisi sono i lavoratori, ha detto il segretario regionale della CISL, Giorgio Graziani. L'occupazione è in calo e si assume in rapporto di lavoro non stabile nel 90% dei casi. In Emilia-Romagna purtroppo va come in tutta l'Italia, il dato è di grande sofferenza, l'occupazione chiaramente è in calo. Crescono soltanto i rapporti intermittenti come dati di assunzione, mentre il tempo indeterminato come rapporto di lavoro non riesce a riprendere nonostante abbiamo anche attraverso il patto per la crescita cercato di incentivare. Venerdì i sindacati confederali protesteranno davanti alle prefetture per chiedere al governo e all'Inps di sbloccare il pagamento della Cassa Integrazione Inderoga. Saremo in piazza ai presidi, davanti alle prefetture, a dare il nostro contributo perché si sblocchi prima della fine di questa legislatura. Servono patti territoriali a sostegno del lavoro, ha detto il segretario bolognese della CISL, Alessandro Alberani, commentando la previsione del sindaco Virginio Merola di investimenti per un miliardo di euro in quattro anni. Siamo felici però vogliamo vederli e vogliamo capire dove saranno spesi. Noi abbiamo già fatto delle proposte, bisogna aiutare i lavoratori e le famiglie con strumenti fiscali. Secondo il tema del welfare, cioè bisogna assolutamente aiutare chi si trovi in una situazione di difficoltà e in una logica di politica di sviluppo. Stanziati più di due milioni di euro per il